Il padre Catanoso cambiò nella sua vita la povertà strutturale di questa nostra terra in povertà evangelica. Prima di tutto non fu un rassegnato, cioè non fu uno che fece la vittima come spesso può capitare nella nostra cultura, ma uno che si fece carico, non per niente fondò le suore veroniche e voleva fondare i Cirenei, i sacerdoti, cioè quelli che si fanno carico della sofferenza. Quindi agì positivamente, non pianse, agì. E agì fu presente molto nel sociale, per esempio abbiamo degli episodi anche nelle carceri dove fu cappellano, anche a Pentidattilo.